Tezzetta Abraham, per me la felicità arriverebbe con lo Ius Soli Tezzetta Abraham è Francesca, la migliore amica di Angelica e ne è arrivata la felicità 2. L'abbiamo intervistata, ci ha svelato i suoi progetti e l'impegno per l'approvazione in Italia dello Ius Soli questa sera va in onda, su Rai 1, in prima serata, la quarta puntata della seconda stagione di è arrivata la felicità. Angelica ha comunicato alla famiglia la sua malattia, ed è proprio da questa constatazione che siamo partiti nell'intervista con Tezzetta Abraham. L'artista ci ha svelato quali elementi, secondo lei, caratterizzano l'attuale stagione, ha parlato del suo impegno per lo Ius Soli e del di migliorarsi professionalmente. Tezzetta, qual è stata la sua reazione quando ha scoperto che Angelica si sarebbe ammalata? Inizialmente sono rimasta senza parole. L'artista ci ha svelato il suo impegno per lo Ius Soli e del di migliorarsi professionalmente.